carissimi amici ben ritrovati in questo nuovo video letture analizzeremo più o meno come al solito un po di fomenti di supereroi ci mettiamo qualche recupero dalle serie un po particolare scorpi che c'è qualcosa di curioso una serie italiana bonelli ma non bonelli particolare come al solito qualcosa di francese insomma proseguiamo le video letture a 360 gradi da cosa cominciamo beh iniziamo dei supereroi come sapete sto continuando l'approfondimento delle varie serie che ho recuperato quindi supereroi in questo caso il mito perché sapete sto dando in ordine cronologico che abbiamo storie che vanno più o meno dal 66 al 68 e sono le prime storie insomma un mostro umano diciamo prime storie classiche di hulk di stan lee jack kirby e everett diciamo i disegni e che cosa abbiamo in questo classico abbiamo quello che è un po l'inizio la vera genesi del personaggio in cui per un bel po di numeri per un bel po di tempo era diciamo sempre il stesso refreni che si ripeteva cosa succede che abbiamo una serie di malvagi si vorrebbero servire diciamo della forza di ultra potere di hulk per i loro scopi o per magna di conquista o di controllo sulla terra sugli esseri umani eccetera eccetera e al contempo abbiamo un hulk sempre ignorante sempre schiavo delle proprie pulsioni e l'aspetto particolarmente negativo che ho sofferto lo metto nella lettura di questo albo qui in queste storie continue è proprio questo continuo inciampare sul difetto principale di hulk in questo momento che anche a livello di scrittura secondo me questa sua memoria estremamente a breve termine a brevissimo termine che lui si ricorda sempre che gli umani sono cattivi che vogliono del male però anche se sa questo anche se si ricorda poi che qualche d'uno gli ha voluto bene qualche d'uno in quel caso potrebbe essere la sua parte eccetera basta un piccolo screzzo anche non per forza una fucilata ma una semplice parola o espressione un po brusca che subito si rincazza e hulk è il più forte di tutto un che spacca tutto quello che gli pare distrugge tutto e dimostra che è più forte di tutti nessuno può mai sconfiggere hulk una volta volte tre volte quando iniziano a diventare un po nuverevoli sto hulk a me sinceramente ve lo ammetto ha iniziato a starmi decisamente sulle balle perché ok è un difetto che non ci può fare niente è proprio la sua natura è però dopo un po allora se non ce lo conosco con chi gli scrive le storie insomma in questo caso poi qui cos'è che riesce a sorreggere un po il tutto e a fare un attimo da sospensione proprio il personaggio di betty che ama bus banner e che sai cosciente che dietro le spoglie di hulk c'è il suo amato e che quindi tira sempre la maglia a suo padre il generale che invece ovviamente deve fare gli interessi degli stati uniti che devono comandarsi tutto e non possono accettare ovviamente come forza amata qualcuno che sia indomabile incontrollabile non sotto il loro controllo e gli dice sempre no no ferma non sparate gli non ci detto allora c'è bruce c'è cose eccetera però alla fine è sempre di quella è anche lì il padre hulk una volta gli salva la figlia una volta gli salva il culo a lui una volta salva il culo all'esercito e di qua e di là però lo stesso non è concepito anche lui non si ria mai non si redime mai sulla sua posizione sulle sue nonostante quello che è accaduto cancella dopo qualche pagina tutto quello che è successo si riparte poi ma che non ci sia anche qui il triangolo dopo c'è il maggiore talbo che anche lui ama lei che però lei ama appunto bruce banner quindi il maggiore è quello che si mette un po in mezzo da un lato vorrebbe anche lui che sto cacchio di hulk per come si comporta si togliesse dalle balli essendo poi anche quello che poi lei ama e lui non riesce a concepire che lei ami uno come quello che poi diventa quel mostro anche se alla fine il sotto sotto sa che c'è bruce banner che però si trasforma che quindi è contrastato però ecco è un po più riesce a essere un po più liggimirante riesce andare un po più là ma poi dopo si tratta sempre di storie estremamente brevi si rimbalza poi sempre da un nemico all'altro e c'è tirannus e c'è l'uomo talpa e poi c'è boomerang e poi la mazza hulk poi lo straniero che è un alieno di diciamo che in alta galassia e poi abominio che è una specie di rettile come hulk e poi di mezzo arriverà anche in fondo silverserfer che per qualche motivo hulk vuoi che non si incazzi anche con lui quindi è sempre di quella sempre diciamo con lo stesso leitmotiv c'è solo un momento in cui hulk prende dice ma che cazzo ci faccio ancora sulla terra il suo sogno diventa andare su un altro pianeta poi ovviamente anche lì ricambia idea dice ma che cazzo sono venuti a fare su un altro pianeta forse non è così figo però ribadisco per il suo continuo reiterarsi della trama della cosa è sempre di quella non riesce a diventarmi simpatico perché non evolve mai non c'è mai almeno fino a dove ha esposto diciamo alle condizioni perché questi albi qui esponenti una serie di storie una magari anche dietro l'altra ti fa capire che mood si respirava quando erano alle origini diciamo i supereroi però dal punto di vista della trama dell'evoluzione non è che ti servirà per capire un qualche cosa che succede qui che assolutamente impatto il futuro qui devi solo ti servono per capire solamente il contesto che si respirava in quegli anni cioè hulk all'inizio della storia editoriale che lo ha visto anche con la sua rivista iniziare ad avere il suo fumetto che cosa ci si poteva aspettare nel suo comportamento nelle sue storie e in quello che si ritirava appunto di volta in volta però non mi ispira particolarmente simpatia come vediamo poi ci sono anche altri molti supereroi in questo periodo qui non è che proprio proprio ce ne sono un po pochini che mi risultassero particolarmente simpatici ad esempio come vedremo nel prossimo puntato adesso sto leggendo i fantastici quattro e guarda caso anche lì il personaggio che mi ad esempio la cosa che ha molte assonanze diciamo in certi in certi versi con un anche se lì vedremo c'è qualche cos'altro che fa un po più la differenza qui invece proprio le trame estremamente esili e l'essere proprio decoccio continuamente di un che è un po anche la sua caratteristica perché è peculiare per carità non mi hanno particolarmente istigato anche come disegni diciamo che un po sia il disegno un po il classico colorazioni come vi dico sempre non mi ha esaltato diciamo a livello grafico siamo sempre in quel cinque e mezzo storicizzato che oggi come oggi come lo sa anche il buon igor non riuscirebbe nemmeno a digerirle queste pagine già già se già uno non digerisce non è che non digerisce non trova esaltanti il concetto di supereroi fumetti sui supereroi diciamo che se gli piace il bel disegno la bella grafica questo erano storicamente qualche cosa di esaltante oggigiorno non è quella cosa che ti spingerebbe su questi standard qui a leggere i supereroi e anche la trama altrettanto veramente esile ti inquadri un po il mondo di urch 5 e mezzo ma non andiamo oltre e vedremo invece un altro tipo proprio di approccio di un altro albo che presenterò dopo ve lo faccio vedere però verso la fine ora veniamo invece a un altro piccolo storia diciamo un mini spillatino di un centinaio di pagine che è un'extra che non mi aspettavo di trovare ma in un'annata di quelle che ho acquisito di scorpio siamo credo il 98 ancora o nel 99 al massimo forse il 99 e questo diario di bordo che anche dalla copertina può sembrare il classico fatto piuttosto banale di alcuni fumetti un po datati in realtà mi ha estremamente stupito ma perché voglio dirvi nello specifico di cosa parla questo diario di bordo perché proprio anche a livello di trama è abbastanza intrigante in un lontano futuro datato 3059 la terra non è ormai che una distesa unica di acqua un oceano infinito con una sola piccola isola a campeggiarvi sopra la terra è ancora solcata da umani solo come risorsa per le colonie mentre diverse compagnie di pesca si disputano il commercio della farina di pesce divenuta più preziosa dell'oro e che viene accumulata e inviata alle colonie mediante appunto dei razzi in questo scenario conosceremo appunto jonas che è appunto il protagonista di questa storia e di cui vi leggo appunto la prima pagina del suo diario di bordo finalmente sono arrivato mi sento come un innamorato che dopo anni e anni di fatiche raggiunge l'amante pronto a possedere e essere posseduto a imporsi per essere definitivamente sottomesso mi dicono che sarà solo per otto anni che poi potrò chiedere il trasferimento e io annuisco gravemente come se davvero volesse andarmene non gli farò capire che resterei qui per sempre che anche dopo morto voglio restare qui dissolto amorosamente nelle correnti sollevato con appassionato vigore da onde alte come montagne e fuso col sale e con la spuma dopo menzogni e inganni e prezzi pagati sono giunto nel luogo dei miei sogni non accetterò mai di andare quindi il pianeta terra qui ormai è diventato e rinominato pianeta mare quindi come sentiamo è un uomo disgustato decisamente dall'umanità da dal rumore che questa provoca dalle nefandezze appunto che commette per cui accetta questo incarico come pilota di questo mini sottomarino in solitaria per ben otto anni anche se per lui quella missione è come mi ha letto un sogno e andrebbe bene quindi per l'eternità il suo compito sarà quello di sabotare le navi e le piattaforme della compagnia di pesca della concorrenza senza farsi scoprire e a jonah sta bene questo compito qui un lavoro così meschino pur di vivere purché gli permette appunto di vivere da solo solcando l'oceano sopra e sotto la superficie devo dire che questa trama qui anche per come è scritta è veramente affascinante sono delle vicende poi che lo rendono particolarmente intrigante come ad esempio quello del datore di lavoro che è stronzo con tutti che viene fottuto a sua volta e troveremo naufrago qui e là per l'oceano ci sarà anche la storia di questo pesce cane enorme che jonah si è innamorato quel mare così come appunto della natura quello popolo cerca di difendere quasi come un figlio per poi scoprire che alla fine è un altro sommergibile sotto mentite spoglie e tutto questo in una caratterizzazione proprio di questo protagonista affascinante che rimane credibile nonostante tutto sino alla fine devo dire sono veramente rimasto stupito sì ok anche disegni di maccagno mandrafina diciamo su quel 6 e mezzo non è che andiamo molto più in là però questa trama melda almeno un 7 e mezzo veramente un piccolo spillatino che mi ha saputo stupire e mi ha tenuto credevo di così liquidare in fretta dover leggere quasi contro voi invece mi ha appassionato veramente alla fine per capire in questa situazione molto particolare un futuro molto strano in questa terra completamente marittima e con questa missione con questo individuo ha acquisito di confronti dell'umanità della società dei sentimenti davvero unici e quindi siamo molto interessati a capire come andrà a finire vediamo poi francesi con tenterne sto proseguendo con calma anche qui mano a mano tutti i suoi volumi abbiamo il segreto del liocorno che in realtà è il primo di due albi sono in realtà collegati perché sono la stessa storia e il cui secondo appunto il tesoro di rackam il rosso e devo dire questa storia rispetto alle altre sarà che ha lo spazio di due volumi che nel frattempo magari la scrittura si è evolute si è approfondita è forse uno dei migliori tra quelli che ho letto ad oggi di ten ten e il bello è un po anche questo misto questa prima parte in cui si svolge molto prima parte diciamo così cittadina in cui c'è da comprendere come mai questa serie di furti che poi coinvolgerà anche ten ten in prima persona che inerente che gira attorno a questo vegliero un modellino di vegliero e i motivi per cui questi personaggi chi è che insomma cerca di rubare queste cose questi veglieri perché ci sono queste piccole rapine per poi capire che appunto di mezzo c'è una vecchia storia inerente un mavo del del comandante amico di ten ten che appunto probabilmente ha nascosto un tesoro quindi che interessate a quel tesoro quel vegliero a qualche cosa che fare con quel tesoro e da cittadina poi trasferirà dei manieri in campagna e poi trovate le cose nel secondo alvo ovviamente si partirà a cercare se esiste questo benedetto tesoro devo dire che sicuramente soprattutto per la storia qualche cosa che mi ha diciamo appersonato di più c'è anche ten ten che un filo meno odioso cioè ancora non è questo personaggio che digerisco tantissimo è un po meno sbruffone ha un po meno bucio di culo in ogni cosa che fa che combina però tutto sommato insomma la storia si è dipanata in maniera un po più piacevole e scorrevole del solito proseguiremo per vedere se questa sarà una delle migliori storie in assoluto o se non avanti ce ne troverò dei ulteriori migliori magari poi nei commenti fatemi sapere anche voi nel frattempo se questa è una tra le vostre migliori o se devo aspettarmi di ulteriormente migliori tra quelle che cronologicamente vengono dopo nelle avventure di tentè poi vi avevo detto bonellide non bonelli ma bonellide perché anche questo edito editoriale aura metamorfosis un trittico scritto da giacomo bevi l'acqua che mi ha prestato l'amico igor nella famosa giornata di milano le giornate di milano che mia in realtà me l'avrebbe regalato ma come dico io preferisco diciamo dare adito e a mia volta magari omaggiarli ad anne che era interessato in qualche modo a questi per fare veicolare far girare questi fumetti anche perché se fosse stato un effettivo capolavoro probabilmente me l'avrebbe solo prestato igoro e nel caso invece me l'avesse regalato io avessi reputato fosse un capolavoro me lo sarete detto io eventualmente non lo è e sappiamo tutti che è stato un peccato mi invito andare a recuperare il video live o video che abbiamo fatto comunque assieme io e lui in cui parliamo di parliamo di questo è anche un altro volume che quello di essex county in cui proprio descriviamo per file per segno cosa c'è che ha decretato questo diciamo trittico una delusione proprio coincidente con l'ultimo anno perché all'inizio era questa storia di questa investigazione di questi omicidi che avvengono la protagonista ne qualche modo coinvolta e lei però avrebbe questa sorta di poteri paranormali non si capisce bene cosa il suo ex ragazzo che appunto il investigatore diciamo che investito del ruolo di cercare di capire e trovare l'omicida è ovviamente raggi razionalmente quanto può credere al suo ragazzo tra l'altro è stato uno dei motivi per cui anche presentemente si erano lasciati poi però queste cose aumentano e si comincia a pensare a un killer seriale e a quel punto le cose per un'altra dimensione comunque fino a questo punto qui il paranormale per quanto ci fosse qualche suggerimento si manteneva in un qualche cosa che era comunque lasciava molto spazio all'indagine in questa roma così presente e quindi poteva far sembrare quasi un commissario ricciardi a roba da sembrare i bastardi pizzo falcone insomma queste investigazioni all'italiana poi però appunto giacomo ci ha messo ha sbaccato un po troppo un po con manga un po con la punto cose che distruggono sbaccano come nei manga e il paranormale ha preso sopravvento proprio per far splodere secondo me la storia in un modo che non è rimasta esaltante ma vi ribadisco andate a vedere quel video là perché ripetiamo per filo e per segno molto più nel dettaglio di questa opera qui concludiamo quindi con l'altro componente del supereroistico che ho letto siamo non nel mito ma supereroi e grandi saghe e qui abbiamo un volume particolare i matrimoni marvel particolare perché appunto non narra un piccolo ciclo narrativo un piccolo anfratto di storie tutte localizzate nello stesso uno spazio diciamo temporale conciso ma che variano dalla prima storia del 65 all'altra del 69 74 fino arrivare agli anni 80 90 e 2000 quindi uno di quello che fa vedere i vari principali famosi o quello che è matrimoni all'interno delle saghe marvel nella storia del fumetto marvel e sono queste purtroppo quelle tipologie di albi che apprezzo sinceramente meno magari interno contengono anche delle storie accattivanti magari messi lì adesso di fuori di questo i matrimoni eccetera che comunque possono anche incuriosire ma il prendere uno qui uno lì fare un po di super mega mix bimbo mega mix collection come si dice non è proprio ciò che mi esalta preferisco quando prendono un ciclo di storie un bel ciclo cose per far capire dove ci si muove cosa c'è e senza avere questo leitmotiv che fa molto click baiting di sottofondo a livello fumettistico però ce lo becchiamo all'interno della collezione me lo sono andato a leggere me lo sono andato a leggere adesso perché appunto comunque anche se ci sono alcune storie avanti degli anni ce n'erano alcune dei primi anni sessanta e quindi anche qui hanno fatto mettere questo tra i primi da andare a leggere allora che che matrimoni ci sono raccolti qui allora il primo l'abbiamo già visto nella lettura precedente sui mega crossover marvel ed è proprio coincidente con panico al baxter building quindi il matrimonio tra su e mister fantastici fantastici quattro il secondo è quello tra henry pym quindi ant man e wasp ha un andamento particolare come storia perché pratica appunto henry pym scompare arriva dai vendicatori un nuovo supereroe questo calabrone che dopo aver sventato questa rapina chiede sfacciatamente di entrare di essere ammesso tra i vendicatori quando però racconta ai vendicatori di essere stato lui a liberarsi di golì di anche ovviamente questi non la prendono bene e allora cosa succede che calabrone fugge via portandosi però via con lui wasp quando poi gli avengers raggiungono la tana del calabrone è questa volta wasp a stupirli dicendogli vedete qua che ha intenzione di sposare appunto il calabrone ovviamente gli avengers cercheranno di dissuadere dicendo che cazzo stai facendo nel frattempo poi mentre fermano ormai però comunque questi preparativi per questo matrimonio alcuni cattivoni anche qui entrano nell'edificio e vogliono scombustolare anche questo matrimonio qui ma la cosa che un po più stupirà a tutti i supereroi è capire come mai wasp si comporta in quel modo lì e ha deciso di sposare questo calabrone come dico non è chissà che storia eccetera però proprio la curiosità tutto sommato ti tiene abbastanza attaccato fino alla fine il terzo matrimonio invece quello tra quicksilver e crystal anche qui fermano i preparativi per il matrimonio tra crystal e quicksilver ma ci sono però un po di visticci tra parenti perché quicksilver non avrebbe invitato al matrimonio vanda ovvero sua sorella e visione in quanto si sarebbe apposta a suo tempo alla loro unione dunque succede che durante il visticcio i primitivi alfa si ribellano e attaccano i supereroi mentre appunto omega il gigantesco android creato da maximus si risveglia e rapisce crystal mentre i vendicatori reagiscono scoprono che il gigante è controllato da uno dei principali avversari dei vendicatori ultron come faranno gli eroi a fermarlo beh questa ammetto che è una storia che ho goduto poco un po in parte così un po la storia un po perché effettivamente non ho letto ancora le storie degli inumani quindi non so chi sono gli alfa perché si ribellano perché maximus che è il fratello di freccianera c'è la morte con lui eccetera eccetera quindi è un po questo sentore di essere fuori di non conoscere di non riuscire a capire comprendere questi odi antipatie eccetera proprio per queste motivazioni arriviamo al matrimonio tra bruce banner e betty ross e anche qui al matrimonio arriva per partecipare anche rick jones e però a quanto pare il vecchio amico bruce banner non è più lui l'incredibile hook che infatti sta smattezzando e combattendo altrove con altri mentre appunto tra i due si anche qui fermano i preparativi ovviamente tra i due tutto la classica solfa è colpa mia se tu eri diventato l'incredibile hook no sono io che mi ero messo in mezzo artefice del mio destino non è colpa tua tu tu però mi hai salvato tu però questo vabbè insomma solite cose quando ecco che appunto sulla scena il rompe tanteus che è il padre famoso padre di lei appunto come abbiamo visto anche prima nelle storie di hulk che è ormai è un po in generale in decadenza e che sparerà a bruce banner poiché la cosa si risolverà con un aspro confronto tra padre e figlia era tipo rapporto tra di loro anche qui purtroppo si arriva un po sulla storia mentre sullo sfondo c'è questo combattimento con un che senza capire come mai un che non è ancora o bruce banner non è ancora un che eccetera quindi è un po limitato il trovarsi all'interno di questa storia qui è per questo anche che appunto se non si è nel non continuo un dico sempre questo tipo di albi megamix gioie e dolori però al di fuori di questo almeno in confronto in chiesa tra i parenti da queste loro emozioni devo dire che non è male infine quello forse più riuscito sia per disegni che parte per disegni in parte soprattutto anche come storia è quello tra scott summer e john gray decisamente famoso in questo caso si tratta di un vero e proprio matrimonio senza diciamo i nemici a dirrompere rompere le palle o chissà con quali altri accadimenti e qui però c'è char xavier che durante questi preparativi rimugina sui suoi studenti compagni alcuni sono un po tristi perché wolverine non c'è in quanto è in viaggio lontano per diciamo ritrovare se stesso anche qui si percepisce il mood ma non è proprio come arrivarci no quindi anche questo xavier pensieroso tutti che si fanno questi malinconie per wolverine che non c'è perché in mezzo un po c'entrava anche wolverine però detto questo almeno a livello di storia forse in sé piccola storia tra tutte forse quella che mi ha un filo appassionato di più come lettura abbiamo nell'ultimo il matrimonio tra luke e jessica jones questa volta durante i preparativi e qui come di sé di tutta altra storia ed è un po la parte che sorregge maggiormente secondo me quest'ultimo pezzo durante quei soldi preparativi del matrimonio arriva un cattivone a come a sottoromperi cabasisi e questa volta si tratta di jelena belova la seconda vedova nera che è rimasta sfigurata durante uno scontro con i vendicatori lei ha accettato di essere trasformato da lei nel nuovo adattoide che ha qualcosa in grado di replicare i poteri di qualsiasi super essere quando ci viene a contatto insomma avremo quindi questo scontro piuttosto duro con con i nuovi vendicatori che al contempo cercheranno anche di capire chi si tratti soprattutto del mandante questa storia del 2006 e devo ammettere che capire chi siano tutti i protagonisti i personaggi con anche i loro costumi particolari c'è all'inizio soprattutto vediamo spiderman rosso e giallo è un po insomma distorsione da capire anche qui non essendo aggiornato a tirar su decisamente comunque la storia come vedete disegni che decisamente mi piacciono di olivieco e pelle detto questo quindi nel complesso qualcosa di leggibile ma come vi ho detto soprattutto perché ci sono queste storie infine con dei disegni particolarmente apprezzabili ma non mi piace troppo arrivare avere la singola storia così senza essere meglio introdotto in tutto il mood della situazione in cui ci si ritrova stanno come vedete proseguendo le mie le mie letture supereroistiche e soprattutto ci troviamo ancora nel periodo classico diciamo la silver age in particolare e ci sono ancora diversi un po di albi della marvel soprattutto prima di tornare anche a qualche d'uno dell'epoca verso la dc ma comunque come vedete le letture a 360 gradi proseguo fatemi sapere ovviamente se anche voi preferite di solito gli altre tipologie di albi o se questi qui ogni tanto spestetati con una storia migliore presa da qui una storia molto famosa presa di là e impacchettate un po mixate assieme le gradite comunque ci si vede per tutto il resto in un prossimo video e per le discussioni qui sotto nei commenti cliccate mettete like perché serve dire queste cose qui ma fatelo se questi video vi piacciono perché danno sempre comunque il segnale che vale la pena continuare a produrli ciao e al prossimo video